Nessun ferito e danni ai veicoli. È questo il bilancio del singolare incidente stradale avvenuto attorno alle 18 di sabato in piazza Cavour, a Intra. Una Ford Fiesta diretta in corso Cairoli, a una decina di metri dall'imbocco della rotonda non si è accorta della Dacia Duster che la precedeva. Le è arrivata dietro senza arrestarsi, urtandola. Nell'impatto il mezzo che stava davanti, anziché finire... Abbonati alla nuova televisione online, è live 24 ore su 24.